Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Claudio e in questo video praticamente indovinerò la vostra età in meno di 30 secondi Però mi raccomando se questo trucco avrà funzionato fatemelo sapere qui sotto nei commenti scrivendo ha funzionato E magari se volete far vedere questo trucco anche ai vostri amici condividete questo video ai vostri amici E se siete nuovi perché no iscrivetevi Comunque ragazzi mi raccomando per questo video cerchiamo di arrivare a 5000 like E magari vi porterò altri trucchi matematici come per esempio questo qua delle carte che non vi svelo Però magari se arriviamo a 5000 like ve lo posso portare Adesso come sempre saluto gli 8 fortunati di oggi che sono Nicolo Giuseppe Romeo, Daniele Di Simone, Lorenzo, Davide, Assia, Tiziano Sordini, Dark Souls e Alex Boss Se anche voi volete essere salutati al prossimo video mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi a questo canale Attivate la campanella, condividete questo video ai vostri amici e commentate qui sotto con salutami E una volta fatto ciò prima o poi verrete salutati Adesso direi di incominciare subito con questo trucco Ok siamo pronti Allora metterò anche un timer dei 30 secondi appunto per farvi vedere che davvero in 30 secondi riuscirò ad indovinare la vostra età Anche perché la intro non vale visto che la intro c'è in ogni video e già quella dura più di 30 secondi Quindi la intro non la consideriamo Però prima di mettere il timer mi raccomando per fare questo trucco matematico Sì perché purtroppo ci sono i numeri e questo può essere un problema per chi non gli piace la matematica Casomai qui sotto nei commenti fatemi sapere se vi piace o meno la matematica e se è indovinato la vostra età Comunque per fare questo trucco avrete bisogno di una calcolatrice Ovviamente sto scherzando di una calcolatrice Quindi mi raccomando prendete una bella calcolatrice così farete i calcoli giusti giusti Adesso direi di mettere subito questo timer Allora ragazzi la prima cosa che dovete fare dovete scegliere semplicemente un numero da 1 a 10 Quindi mi raccomando scegliete un numero da 1 a 10 Nel mio caso io ho scelto il 2 quindi lo inserisco nella calcolatrice Una volta fatto ciò dovete moltiplicare il numero scelto per 2 Quindi nel mio caso il risultato è 4 Una volta fatto ciò dovete aggiungere 5 al vostro risultato quindi nel mio caso è 9 E poi moltiplicare il tutto per 50 Quindi nel mio caso lo faccio comunque 450 Adesso se già avete compiuto gli anni quest'anno dovete sommare 1769 Se invece non avete già fatto gli anni dovete sommare 1768 Mi raccomando non sbagliate questa parte Quindi nel mio caso che io ho già compiuto gli anni quest'anno aggiungerò 1769 Adesso invece dovete fare una semplice soltrazione che è nel vostro anno di nascita Quindi nel mio caso 1999 Ok adesso chiudo il timer perché praticamente il trucco è finito Infatti a me come risultato potete vedere meno 1999 Si lo so sono vecchio E' uscito come risultato 220 E voi direte Claudio ma chi c'hai 220 anni ma come tu avevi detto che usciva il nostro anno Sei un bugiardo non sei un mago Ragazzi invece il trucco è riuscito benissimo perché praticamente il primo numero che sarebbe 2 E' il numero che ho scelto all'inizio E a voi appunto se avete scelto 2 uscirà anche a voi 2 Se avete scelto 4 uscirà 4 Vabbè comunque uscirà il numero che avete scelto Mentre invece le ultime due cifre sono alla vostra età Nel mio caso 20 Si ho 20 anni Anche se sembra che c'erano 14 comunque c'ho 20 anni Si lo so sono vecchio Comunque ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto questo video L'avete trovato interessante Comunque si tratta di un video interattivo Lasciate davvero un bel like E magari condividete questo video ai vostri amici Per far vedere anche a loro questo trucco magico Ed inoltre se volete vedere altri trucchi Iscrivetevi a questo canale In cui non faccio solamente trucchi magici ma anche curiosità E attivate anche la campanella per essere aggiornati sui prossimi video Questo è il mio Instagram Quindi mi raccomando seguitemi su Instagram Che magari vi faccio vedere anche lì qualche trucchetto magico Questo è il mio Instagram Quindi mi raccomando seguitemi anche su Instagram Va bene noi ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao